ciao allora oggi vediamo tutti gli acquisti web che ho fatto nel periodo li ho fatti da amazon e soprattutto da wish io non posso resistere a wish si sa ormai e ve li mostro tutti quanti un po random e poi dopo ne parliamo allora prima cosa ho preso questo ventilatore da amazon allora perché intanto perché io non ho il clima in camera e se no io muoio poi è abbastanza grandino è un usb è un ricondizionato che ho preso su amazon quindi si vede qualche piccolo segnettino però è ricondizionato e funziona perfettamente è bello grande ok perché comunque questa è la mano poi ha preso usb io gli ho attaccato l'alimentatore ma tranquillamente si può attaccare qualunque usb e io lo uso di notte allora l'ho pagato 3 euro perché ho ricondizionato comunque sia è bello grande è stabile è fermo lo uso tutta notte fa un po d'aria la muove ed è riesco a dormire e mi piace mi piace tanto poi oltretutto ricondizionato a non fa rumore assolutamente ok poi si attacca dietro il tastino e quindi davvero cioè è perfetto muove un pochino l'aria è direzionabile a solo una velocità ma è poi passiamo invece a wish questo è un euro questa cos'è è un usb con lo sdoppiatore delle porte e io lo trovo ottimo perché io ad esempio nel computer ho solamente una porta usb quindi se devo attaccare una penna e magari sto usando il ventilatorino non ci riesco quindi c'è questo che comunque un euro è ottimo si mette nell'usb e comunque sia è regolabile quindi una volta fissato lo potete mettere tranquillamente in questa posizione dritto in questa quindi è difficile da capire ma una volta fissata la presa usb si può girare quindi è davvero comodissimo un euro mi trovo bene un sb 2.0 non è velocissimo ma comunque sia fa perfettamente il suo lavoro ad esempio ed è voglio metterci il mouse voglio metterci qualcosa quindi comodissimo poi andiamo avanti questo non mi ricordo ah sì l'ho preso su amazon perché avevo un buono quindi l'ho pagato non l'ho pagato ma costava 5 euro è un selfie ring stranamente io ho una passione per il selfie ring questo è bello grande così ha un bel mollettone dietro bello comodo e vediamo cos'altro si carica con l'usb qui e ha le tre intensità vediamo se riesco una due e tre e poi si spegne e lo trovo davvero fantastico comodo e poi è bello grande quindi proprio è una luce molto più naturale mi piace anche questo questo costava 3 euro ma avevo un buono quindi non l'ho pagato diciamo che la spedizione è arrivato in quasi due mesi altro prodotto che vi mostro e sì sembra una cavolata ma è una figaggia in assoluta questo è un pacchetto da 6 questi sono 6 a 1 euro sono pulisci spazzola sembra una cavolata ma l'ho provata e con i dentini così morbidi e flessibili in plastica funziona davvero ce la passo sulla spazzola e rimuove tutti i capelli che ci sono incastrati dentro è davvero uno spettacolo poi 6 a 1 euro quindi anche se dura poco direi che è un buon acquisto eccoci allora come sempre fatemi sapere se vi ho tenuto un pochino di compagnia con questo tipo di video se vi sono piaciute alcune cosine se vi ispira qualcosa come sempre se ti è piaciuto il video condividilo magari con un tuo amico o un'amica che piace fare acquisti online e soprattutto a prezzi bassi di cose compro cose a casa se ti è piaciuto il video mi raccomando mettimi un like iscriviti al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella da qualche parte qui così verrai avvisata ogni volta che carico un nuovo video e alla prossima ciao 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 ciao